Martedì, 11 giugno, in Brasile incontriamo la Nazionale di Haiti. In Haiti, a tre anni dal terremoto, ogni giorno è emergenza. Per fame, sete, malattie e catastrofi naturali. Per vincere davvero c'è bisogno del tuo aiuto. Contribuisci anche tu per portare acqua, cibo e cure mediche ai bambini e alla popolazione di Haiti. Chiama subito il numero verde in sovraimpressione 800-111-666 per donare con carta Sì, Visa o Mastercard. Grazie.